E dopo un buon cuscuz, un bel bicchiere di vino e il caffè, andiamo a vedere la chiesa di Sant'Ignazio. Sono i resti di Sant'Ignazio. Siamo al Museo del Satiro e anche Danzante. Che invidie! Questa è in chiara polemica con Marsala, loro Mazzini e altri Garibaldi. Quaranta giorni di indulgenza. Mi capisse fichi. Dopo una partita del Bologna ne ho bisogno. Scala dei poverelli. Ha detto l'Eleonora che è una cosa molto importante. Dove stiamo andando? A fare la visca guidata di Mazzara. Partenza dalle 5 e mezza, ma adesso abbiamo scoperto che era il riparo alle 5 e mezza, la partenza alle 18. Io intanto mi sono messo seduto. Io intanto mi sono messo seduto. La via principale che comunicava con Sinagoga e poi attraversava questo tratto, poi costruirono un edificio e arrivava su da lì a Bagno. Queste sono le due strade principali che partivano da Porta Palermo. Le mura, il tracciato delle mura era questo. Oggi ci sono quattro strade. Noi abbiamo iniziato il nostro giro sulla piazza della Repubblica. Questa è la città. E oggi siamo, adesso siamo qui. Siamo andando a Porta Palermo. In centro, nella direzione dei vitori. Nelle strade, senza. Per modo da giudere l'accesso e giaccurarsi. Ne troviamo tantissimi. Non soltanto nel quartiere di San Francesco, che è quello che chiamano... E anche domenica è andata. Giro di Marzara del Vallo fatto. Molto bella Marzara. Spoiler per domani. Domani si va verso Shaka. Ci vediamo domani.